Ciao ragazzi, oggi vi propongo un allenamento intenso, faremo un total body di 20 minuti, andremo ad allenare tutte le parti del corpo, dal cardio, braccia spalle, addome, gambe e glutei. Seguitemi! Grazie a tutti! 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 a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! a tutti! Grazie 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 a tutti!